Buongiorno a tutti, conferenza stampa prima della sfida col Catanzaro, iniziamo da Ferralpisalo TV. Buongiorno mister, nonostante la sconfitta la squadra a Bolzano ha giocato bene, il bel gioco c'è, adesso mancano solo i risultati. Crede che questa sia la strada giusta, la squadra può riprendere il breve filotto iniziato prima della pausa natalizia? Ma ovviamente ce l'auguriamo, stiamo lavorando per quello, ovviamente giocare bene e non fare punti sono dei lati positivi, però è chiaro che significa che non basta quello che stiamo facendo. Bisogna probabilmente e sicuramente essere più concreti, perché poi quello che contano ovviamente sono i punti, certamente conta anche che la squadra stia in campo bene, che la squadra faccia le cose bene, però le deve fare evidentemente meglio perché quello che stiamo facendo, come ho detto, non basta, quindi ci vuole quella ancora di più, quella determinazione, quella rabbia, quella cattiveria per riuscire ad aggiungere quel qualcosa che ci manca per poi riuscire anche a fare il risultato. Allora Catanzaro, basterà fermare Iemmello, Biasci e Vandeputti e poi il gioco è fatto? Direi che questa è una squadra che lavora insieme con lo stesso allenatore da più anni, hanno fatto un percorso eccezionale, stravincendo il campionato, lavoravano già insieme dall'anno prima, ogni anno hanno aggiunto qualcosa che è compatibile con quello che vogliono fare, quindi quest'anno risulta essere sicuramente la rivelazione del campionato per punti fatti e soprattutto per qualità di gioco, perché hanno una capacità di giocare che è veramente importante, con dei giocatori qualitativamente molto forti come quelli che hai citato tu e quindi sicuramente sarà una gara di grande impegno per noi, dobbiamo metterci come detto tutto quello che abbiamo perché, ripeto, sono una squadra che giocano veramente bene. Però mi sembra che il Catanzaro attraversi degli alti e bassi risultati positivi ma anche negativi. Sì, certamente è una neopromossa comunque, però i punti fatti sono sicuramente tanti, questo è certo. Sì, poi è incappato in qualche sconfitta, però complessivamente credo di poter dire che è una, come ho detto prima, secondo me è una rivelazione del campionato e giocano un bel calcio con delle individualità, quindi, ripeto, bisogna fare una grande partita. Formazione Ferralpi-Salò, tante novità o nessuna? Ma noi, come ho detto prima, dobbiamo proseguire su questa strada perché secondo me è la strada giusta da seguire, chiaramente aumentando quelle che sono, dobbiamo aumentare in termini di qualità, in termini di intensità, per cercare, come ho detto prima, di riuscire, oltre che a fare delle buone gare, ad aggiungerci anche il risultato che è la cosa più importante. Io le chiedo, se avete riguardato comunque in settimana la partita col Sud-Tirol, oltre a quell'errore in occasione del gol dell'Alto Adige, ha visto qualcosa che non andava nella squadra? La squadra, ripeto, complessivamente ha fatto una buona partita, abbiamo giocato contro una squadra che in tanti momenti della partita ci ha aspettato, dovevamo gestire la palla, l'abbiamo fatto anche bene perché siamo arrivati a tirare in porta tante volte. Come ho detto prima, ci manca ancora qualità, perché poi le occasioni le abbiamo create e purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle, sia nella rifinitura sia nella conclusione sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo sicuramente migliorare anche poi alcuni aspetti difensivi perché, ripeto, se complessivamente le cose stanno migliorando molto, però ovviamente il campionato non ci aspetta e quindi quei miglioramenti che dobbiamo fare dobbiamo affrettarci a farli. Rispetto al Sud-Tirol, il Catanzaro è probabilmente una squadra molto più aggressiva. Quanto sarà importante non sbagliare l'approccio alla gara? Beh, questo è fondamentale, però, ripeto, complessivamente è un altro tipo di squadra come ho detto prima, una squadra che ha grande capacità di palleggio riescono a non forzare mai le giocate, appena sbagli qualcosa nell'aggressione sono bravi ad approfittarne quindi è una gara dove bisognerà avere grande forza, grande pazienza caratterialmente bisogna essere forti ad affrontare una squadra del genere oltre che ovviamente tecnicamente e quindi è una partita molto impegnativa come lo sono tutte però, ripeto, contro questa squadra ancora di più perché è una squadra non semplice da affrontare quindi dovremo metterci veramente tutto quello che abbiamo Il Catanzaro è una squadra che segna tanto e subisce però ultimamente anche tanto al di là del 5-3 di una settimana fa però ha questa tendenza voi invece avete smesso di subire tanto non riuscite ancora a segnare l'equilibrio di questa partita dal vostro punto di vista dove sarà? Sì, secondo me contro questa squadra, ripeto, uno degli aspetti che bisognerà avere è grandissima attenzione, grandissima anche pazienza alcune volte perché loro, ripeto, ti costringono a ballare un po' e quindi non vivere queste situazioni con ansia ma viverle come un momento in cui sono loro che ti costringono a fare quello a vivere nella maniera giusta per poi riuscire anche a fare quello che abbiamo le qualità di fare con grande intensità, con grande attenzione cercando di migliorare soprattutto nella fase di possesso palla quelle cose che ho detto prima perché, ripeto, un po' il trend generale dell'ultimo periodo è quello che arriviamo a tirare in porta tanto arriviamo al cross tante volte però non riusciamo a concretizzare quindi la precisione lì è una cosa che per noi in questo momento fa tanta differenza La partita d'andata fu l'ultima di Stefano Vecchi lei l'ha comunque rivista per avere qualche spunto proprio perché era un'altra gestione, un altro modo di stare in campo anche se poi particolare in quell'occasione non le ha dato particolari idee? No, no, soprattutto perché il Catanzaro gioca in questa maniera e quindi degli spunti ci sono sicuramente ripeto, è una squadra che poi anche all'interno della stessa partita cambia modo di attaccare, cambia modo di difendere perché comunque le conoscenze che hanno sono tante dovute soprattutto al fatto che hanno lavorato molto bene in questi anni in termini di continuità di guida tecnica e di calciatori hanno sempre inserito dei calciatori, ripeto, che erano adatti a fare questo tipo di gioco e quindi risultano essere, secondo me, una gran bella realtà È arrivato Dubiczkas che giocatore è? non in assoluto, ma per la Feralpi Salò dove lo vede Zaffaroni? Ma è sicuramente un attaccante quello che per me è importante, come ho detto anche l'altra volta è quello che arrivino dei ragazzi che abbiano fortissime motivazioni che abbiano grande voglia di giocare, di provarci perché noi abbiamo bisogno di questo al di là delle qualità tecniche o tattiche la cosa fondamentale è che arrivino dei ragazzi che abbiano queste grandi motivazioni per fare il nostro percorso che sappiamo tutti che tipo di cammino sarà però siccome vogliamo a tutti i costi provarci ad arrivare in fondo in un certo modo quindi credo che l'aspetto motivazionale l'aspetto caratteriale dei ragazzi che arriveranno è fondamentale quindi questa è la cosa che più è importante Buongiorno so che ovviamente lei è concentrato sulla partita con il Catanzaro però visto che l'ha appena affrontata mi serve ovviamente per quanto riguarda la partita che giocherà il Brescia-Lechido del Sud-Tirol che squadra è esattamente? Qualcosa ha già detto prima? È una squadra che aspetta è una squadra che però ti lascia anche qualche palla-gol e poi bisogna saperla concretizzare Sì, anche questa squadra ha questo tipo di caratteristiche cioè magari nella fase di non possesso fa una fase più di attesa però la fa molto bene non dimentichiamoci che l'ho fatto anche l'anno scorso facendo un campionato eccezionale arrivando ai play-off anche lì c'è comunque un gruppo di calciatori che lavorano insieme da tanto e quindi questo è molto importante e quindi quando ci sono delle realtà di questo tipo come ho detto vedi il Catanzaro vedi il Sud-Tirol vedi il Cittadella stesso anche se hanno modi diversi di giocare però c'è un gruppo c'è un'identità precisa indipendentemente dal sistema che usano e questo comunque all'interno del campionato è sempre un aspetto molto importante Grazie a tutti, buon lavoro